In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, la CGL alvia il progetto Donne in Ascolto, che preveve l'apertura di punti di ascolto presso le Camere del Lavoro a sostegno delle problematiche sulle donne nel mondo del lavoro, offrendo non solo la già avviava tutela legale, ma anche la disponibilità ad ascoltare problematiche di gemere familiari, sociali e relazionali per indirizzare le donne che ne avessero bisogno verso le associazioni e le strutture e affiancarle nei momenti di difficoltà. Inoltre, la CGL ritiene indispensabile progettare iniziative volte a costruire percorsi culturali di prevenzione alla violenza di gemere, definita in tutte le sue declinazioni al fine di sensibilizzare i giovani delle scuole ed ogni ambito raggiungibile per diffondere una grammatica di comportamenti e linguaggi attenti ad evitare derive violente e discriminatorie fin troppo diffuse nella quotidianità. Ben spiegato, su Gioia Tavolo siamo partiti già da qualche tempo con l'associazione Quadrato Rosso, un'associazione rivolta alle donne, soggetti vulnerabili della società che spesso con difficoltà riescono a raccontare quelle che sono le vicende che vivono anche all'interno dell'ambito familiare e non solo lavorativo. Quindi Sportelli Punto d'Ascolto, insomma, uno spazio privilegiato per tutte coloro che con difficoltà riescono magari anche a rivolgersi ai centri antiviolenza riconosciuti ma che venendo da noi per un semplice strutto contributivo comunque per un altro tipo di prestazione riescono a trovare all'interno della struttura, quindi della Camera del Lavoro, la psicologo, comunque tutte le figure legale o quantomeno tutte le figure in grado di poterle accogliere rispetto a queste difficoltà. di aprire diversi sportelli donna su città alla Calabria. Tra questi sportelli una delle prossime aperture dovrebbe essere questa dello sportello sulla città di Catanzaro, come sportello inteso, come sportello legato alla CGL Area Vasta. L'importanza di questo sportello è non soltanto il sostegno psicologico delle donne ma anche una possibilità di rivolgersi a noi per i problemi che hanno anche sul posto di lavoro perché assistiamo ogni giorno e purtroppo spesso per problemi personali non vengono a denunciare il tutto, a serie discriminazioni sul posto di lavoro, soprattutto quando si tratta di lavoratrici madri. In questi casi vengono completamente escluse dalla possibilità di avere anche una carriera all'interno del posto di lavoro. Per testimoniare non una semplice iniziativa ma una giornata che come si diceva va prorogata nell'arco di tutti i 365 giorni all'anno. Lo vorremmo fare non solo con le competenze specifiche ma anche riferendoci ad alcune inadempienze contrattuali. Prima veniva detto di come vengono lese le putele delle lavoratrici madre e questo avviene in maggior modo nei settori privati delle attività lavorative ma vorrei ricordare che anche nel settore pubblico molte volte non solo il problema delle cadiere, della professionalità ma anche tutte le questioni che attengono ordinarietà contrattuale. Penso ad effetti ai comitati delle pari opportunità che hanno difficoltà a nascere. Penso a tutte quelle tutele che possono sembrare spicciole, non lo sono perché insieme al gravame di lavoratrice le donne portano pure il gravame della conduzione della famiglia e specialmente nella nostra realtà questo elemento è parecchio ridondante. Quindi da questo punto di vista vorremmo affrontare con la competenza non solo tecnica, mi riferisco a quella medica, legale, per essere di supporto davvero alle donne ma ragionare e definire quanto già previsto dai dettati contrattuali. Diventa davvero specioso avere delle norme di miglior favore, di giusto miglior favore rispetto alle donne che vengono sancite appunto dai contratti nazionali e dopo non averle applicate. Quindi insieme con quella che è la più spicciola tutela contrattuale, noi ci impegneremo, ci impegniamo, siamo impegnati in tutti i nostri comprensori come il CGL Calabria a ragionare su quelle che sono le questioni di supporto. Chiaramente questo supporto la CGL riesce a farlo in maniera congiunta con tutta una rete, una rete che come ricordava Caterina a volte viene privata dalla propria linea sanitaria per poter svolgere questa attività particolare, attività sociale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.